Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi abbiamo un ospite, lei è Cristina, la mia insegnante di Zumba nonché personal trainer. Infatti abbiamo indeciso di fare questa carrellata di video con tanti esercizi specifici per il nostro corpo. In questo caso che cosa andremo ad allenare? Allora come primo video vi proponiamo una serie di esercizi per i glutei. Vi andiamo a tonificare e andiamo a bruciare. Mi raccomando fate 3 serie con 15 ripetizioni, riposate tra una serie e l'altra e fate sempre tanto stretching alla fine. Quindi vi lasciamo al video e ci vediamo alla fine. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.